Un dialogo con i rappresentanti del popolo e con la gente comune, gli anziani e i giovani attraverso il ricordo di quattro grandi statunitensi che hanno costruito un futuro migliore. Così Papa Francesco, primo pontefice nella storia, ha parlato ai 535 membri del Congresso degli Stati Uniti in sessione congiunta, che lo hanno interrotto più volte con applausi. Presentatosi come un figlio di questo grande continente, il pontefice ha ricordato il presidente Lincoln come difensore della libertà e denunciato il rischio del fondamentalismo, non solo religioso. La risposta deve essere di pace e giustizia per promuovere il benessere di tutti, continuando ad ascoltare la voce della fede. Poi Papa Francesco ha parlato di Martin Luther King, rallegrandosi che l'America continua ad essere per molti una terra di sogni e chiedendo da figlio di immigrati di accogliere i nuovi migranti con passione e con passione. Si è espresso per l'abolizione globale della pena di morte e per la riabilitazione dopo la punizione. Ricordando la serva di Dio Dorothy Day, Francesco ha invitato alla lotta contro la povertà e alla giustizia sociale, citando molti passi dell'enciclica Laudato Si. Al cuore della cultura della cura della casa comune è necessaria un'economia moderna, inclusiva e sostenibile. Il Papa ha infine parlato del monaco Thomas Merton, esempio della forza del dialogo e dell'apertura a Dio, per chiedere impegno nel porre fine ai molti conflitti armati nel mondo e al commercio di armi. Parlando dell'incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia, Francesco ha lamentato che la base stessa del matrimonio e della famiglia è messa in discussione, ma la Chiesa vuole riproporre la ricchezza e la bellezza della vita familiare. Al termine del suo intervento, Papa Francesco si è affacciato dal balcone di saluto dei Presidenti ed ha benedetto la folla, oltre 50.000 persone, radunate lungo il viale del National Mall, che hanno seguito lo storico discorso attraverso i maxischermi, davanti alla cupola di Capitol Hill in ristrutturazione.